Lascia che ti dica una cosa, se non sei tu il primo a credere in te stesso, nessuno lo farà per te. Spesso pensiamo di non essere adatti per fare una determinata cosa, di non essere all'altezza della situazione, una critica, un rimprovo, una sconfitta. Sono tutte cose che ci dimoralizzano, ci buttano a terra, ci fanno perdere la fiducia in noi stessi. E lì fuori, nel mondo, ricordati che saranno più le persone che proveranno a buttarti a terra che quelle che ti aiuteranno a rialzarti. Molto spesso ti ritroverai da solo, solamente tu, i tuoi sogni, i tuoi obiettivi e nessun altro. Qui inizieranno i primi dubbi. Ti inizierai a chiedere, ma ne vale veramente la pena? Ne vale veramente la pena se tutto quello per cui hai lottato, sudato, pianto e rinunciato, se tutto questo non sia altro che uno stupido sogno utopistico. Ma chi sa meglio di te quanto duro lavoro c'è dietro ogni tua singola vittoria? Chi sa meglio di te quanti sacrifici hai fatto ogni giorno per diventare quello che sei? Chi può sapere quante feste o amici hai lasciato con un semplice... Ehi, non posso, devo allenarmi. Chi lo può sapere? Solamente tu. E allora, cosa vuoi fare? Lasciare che questo mondo finisca per schiacciarti. Lasciare che queste critiche o queste sconfitte ti fermino. Ti parla delle sconfitte. Giuisci per le città. Ascolta le cubi, ma non lasciare che se ti distrutta. Accendi i fessi, metti in discussione. Ma non perdere mai, e dico mai, la fiducia in te stesso. La vita ci mette costantemente davanti alle difficoltà. Più grande è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Maggiori saranno gli ostacoli durante essi. Non possiamo controllare quello che ci riserva. Quello che conta è solamente come reagiamo alle difficoltà. Arriveranno momenti duri, difficili, in cui non vedrai la luce in fondo al tunnel. Nessun successo arriva senza dolore. E a questo punto tu vorrai mollare. La maggior parte delle persone lo fa. Sai, è più semplice mollare tutto. Nascondersi dietro delle scuse. Ma questo è quello che fanno i perdenti. Ma tu non lo sei. Non mollare. Non ora. Non ora, perché c'è qualcosa che ti ha spinto ad arrivare fino a quel punto. E quel qualcosa magari è invisibile agli occhi. E sai perché? Perché dentro di te, nel profondo della tua anima, ricorda che il successo non arriverà subito. Tutte le più grandi imprese si portano a termine ottenendo prima delle piccole vittorie. Devi essere disposto a sacrificare ciò che sei ora. in questo momento, in ogni istante, di ogni fotutissimo giorno, per quello che vorrei essere davvero domani. Per quello che vorrei essere davvero domani. Ora dimmi, ora dimmi se vuoi credere in te stesso. Ora dimmi se sei risposto a tutto per raggiungere il tuo successo. Ora è il momento in cui devi dimostrare chi sei. Ora è il momento in cui devi credere in te stesso. Ora è il momento di smettere di piangere, di rimbocarsi le manche. Ora è il momento del sudore, della fatica, del dolore. Ora è finito il tempo delle parole. Ora è solamente il tuo momento. Continua a lottare, continua a sudare, continua a correre, continua a batterti. Continua ad andare avanti, anche quando ti sembrerà tutto finito. Perché la storia non parla dei perdenti o di chi ha mollato. La storia parla solo dei vincitori. E tu? Sei uno di quelli.